Ritorno all'appuntamento con Rete31, stiamo ancora compiendo un viaggio ormai noto che è quello attraverso i 31 comuni della provincia di Matera, 31 realtà diverse ma spesso accomunate dalle stesse criticità ma anche dalle stesse opportunità e per questo che nell'arco di queste settimane di programmazione stiamo svolgendo anche un lavoro di sensibilizzazione come lo stesso titolo della trasmissione recita a lavorare in termini di rete, quindi a mettere insieme i comuni affinché, come si dice, l'unione fa la forza il detto è ampiamente conosciuto, affinché possano trovare delle soluzioni condivise per affrontare in modo migliore le sfide che questo territorio dalle enormi potenzialità ma altrettanto caratterizzato da problematiche di vario tipo, possa decollare attorno a Matera che ovviamente ne è il capologo di provincia. Ebbene quest'oggi avremo modo di conoscere altre due realtà di settimana in settimana, mettiamo a confronto due comuni del Materano attraverso i sindaci che saranno Salandra e Grottole. Partiamo però presentandovi il primo dei comuni, ovvero Salandra con la consueta cartolina. Ci troviamo qui a Salandra e siamo all'interno del chiostro dove ha sede il municipio. Il chiostro rappresenta per noi un punto di forza del territorio di Salandra, storicamente parlando è un palazzo e monastero del 1500 riportato alle origini con grande impegno da parte delle amministrazioni che si sono susseguite ed è qui a portare, a mostrare le sue bellezze. Ha sede il municipio quindi per noi è un onore utilizzare e tenere in vita queste bellissime strutture. Era una università di teologia, 24 frati a tornazione, l'Adamo caduto scritto qui a Salandra da parte del padre Serafino da Salandra. Viene enfatizzato da qualche anno questa figura per portare anche noi un elemento storicizzato di questa realtà, di questo territorio. Ci ha introdotti tra le bellezze del suo comune il sindaco di Salandra Giuseppe Soranno che ho il piacere di salutare in studio, ben trovato. Grazie per l'invito e un saluto a tutti voi. Sindaco, le faccio una domanda che sono solito fare a tutti i suoi colleghi. Che cosa significa essere sindaco in questo caso di Salandra? È una parola pesante, nel senso che la figura del sindaco in queste realtà diventa la figura dell'assistente sociale, diventa la figura anche sanitaria, la figura diciamo proprio dell'amico e non esiste un orario per i sindaci dei piccoli comuni. Siamo sindaci H24, ma lo facciamo veramente col cuore perché forse ci teniamo a questi territori cercando di mantenerli in vita. non è semplice perché lo spopolamento è più di natura fisiologica perché le coppie magari con uno o due figli rispetto a quando ero piccolo, sei, sette, la mia famiglia eravamo in quattro e ci guardavano quasi in cagnesco. Cos'è successo? Cos'è successo? Quindi era bello vedere tutti questi ragazzini che correvano tra le strade. Oggi c'è questa cosa per Salandra, per quanto mi riguarda, che è molto fisiologica, piuttosto che spopolamento nel vero senso della parola. Avere l'opportunità di raggiungere la Basentana in pochi minuti, raggiungere la città di Matera intorno alla mezz'ora ci permette di mantenere vive queste realtà. Abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno che Matera ci coinvolga in un discorso anche di visibilità e anche di elemento turistico inserendo i nostri territori in quei famosi più volte citati e voluti da noi pacchetti turistici perché le nostre realtà possono offrire uno o due giorni, poi nel pacchetto turistico si deve visitare Matera, si deve visitare Grottole, si devono visitare le altre bellezze del territorio e così può veramente avere un momento di sollievo e di respiro come territorio. Sindaco, la comunità invece salandrese com'è? No, è una comunità laboriosa, umile e ospitale e queste sono delle caratteristiche fondamentali e quando ci raggiungono persone da fuori non trovano sempre il sorriso, l'accoglienza e questo veramente mi fa onore e ci fa onore come paese. Assolutamente, sono doti importanti e che poi appunto in provincia di Matera sono un'eccellenza. Andiamo invece in questo caso a conoscere l'altro comune protagonista di questa puntata che è Grottole, anche stavolta con la cartolina che chiedo alla regia di mandare in onda. Grottole è uno dei borghi più belli, uno dei più belli della Basilicata. lo dicono tutti, l'ha detto anche una giornalista che poco tempo fa è venuta qui a intervistarmi di nuovo. Grottole è ricca di tantissimi monumenti antichi. Non c'è solo un monumento di attrazione, ma abbiamo una serie di monumenti che meritano un'attenzione particolare, in cominciare dal castello, dalla chiesa di Ruta, la famosa chiesa che è incompleta, come si rileva. Poi abbiamo alcune affresche, alcune opere importanti nella chiesa di San Rocco, nella chiesa madre. E poi infine abbiamo un grandissimo santuario, il santuario di Sant'Antonio Abate, il quale si trova a 10 km dal territorio e dentro Grottole, ma lontano dall'abitato, che è stato recentemente ristrutturato. Recentemente, voglio dire una decina di anni fa, grazie a un finanziamento della regione e basilicata di 2 milioni di euro, è stato completamente ristrutturato. E abbiamo con noi anche il sindaco di Grottole, Angelo De Vito, ben trovato. Grazie. Sindaco, le faccio la stessa domanda, essere sindaco di Grottole che significa, che cos'è per lei? Allora, noi due abbiamo un'esperienza già consolidata. fare sindaco non è semplice, perché ti impegna dalla mattina alla sera, 24 ore su 24. Non puoi dire una giornata di sono libero per fare alcune cose famiglie, non lo puoi fare, perché all'ultimo momento ti chiamano per un problema, mentre ti metti in macchina, arrivano vicino alla macchina e ci sono dei problemi seri. purtroppo che non puoi dire di no, perché purtroppo come diceva il sindaco di Salandra prima, cioè noi ci dobbiamo occupare di tutto, di assistenza, anzi molte volte, oltre all'assistenza di lavoro, entriamo nel merito delle famiglie, dove siamo chiamati purtroppo anche ad intervenire in modo serio, altrimenti può succedere qualcosa di difficile, di grande difficoltà. Per questo fare il sindaco oggi, ma anche prima, lo dico e sarà sempre così, in un comune rappresenta la figura dove tutti si rivolgono, tutti i cittadini hanno il mio cellulare, arrivano telefonati da tutti, dove noi dobbiamo rispondere. Però se lo fate da tempo significa che è gratificante. Sì, questo anche all'opposto ci sono questi, c'è questo fatto dove il sindaco, c'è anche un fatto dove è piacevole, rientra anche in un fatto di soddisfazione, perché interessarsi di alcuni problemi, alla fine poi, nei momenti in cui riesci a risolverli, veramente ti dà grande soddisfazione. E la sua comunità com'è? La mia comunità, come dicevo io, parlavo di Salantra, ma io di Salantra ho lavorato 42 anni come tecnico al Comune di Salantra, quindi conosco bene la comunità e i cittadini di Salantra. La mia comunità di Grottole, i nostri comuni purtroppo sono lì, i cittadini si avvicinano, perché ci sono famiglie che si intersegano, fra Grottole e Salantra, famiglie che sono persone di Grottole che stanno a Salantra, persone di Salantra che stanno a Grottole, quindi è un fatto comune in tutti i comuni della provincia di Matera, devo dire che i nostri cittadini sono veramente bravi, sono veramente, con grande sacrificio, resistano a stare nei nostri domi. E allora andiamo a conoscere queste comunità con i nostri inviati, una alla volta, partendo proprio da Salantra, dove dovremo avere in collegamento il buon Pasquale Sant'Io. Ciao Sergio, un saluto a te e agli ospiti in studio, oggi ci troviamo a Salantra. Come puoi vedere le immagini sono inequivocabili, ci troviamo all'interno di un salone da barba, il cui titolare alla mia destra è il signor Mario Pace, che gentilmente ci ha ospitato. E' notorio e risaputo che, insomma, il barbiere, un po' dappertutto, soprattutto nei nostri paesi, è un luogo di ritrovo, assume quasi il ruolo di un confessore, dove ci si rivolge non solo per chiedere quella che è la prestazione professionale, ma anche per confidare segreti, speranze, quello che si mormora in paese. Di tutto questo parleremo nei prossimi collegamenti, insieme al signor Mario Pace, che vi ho presentato, alla mia destra, e alla mia sinistra abbiamo il signor Andrea D'Aria, anzi il dottor Andrea D'Aria, che si occupa di marketing online. Per il momento, Sergio, da Salantra è tutto, vi restituisco la linea. Per come mi ha abituato Pasquale, pensavo di vederlo sotto il casco da permanente, invece per fortuna si è fermato semplicemente sulla sedia da barbiere. E allora, andiamo a vedere invece dov'è a Grottole la nostra Carmela Cosentino. Ciao Sergio, e un saluto agli ospiti studio. Io sono qui davanti al castello di Grottole, un borgo lucano dalle grandi potenzialità, anche dal punto di vista turistico. Naturalmente è un paese che, come la maggior parte dei comuni lucani del sud Italia, risente del fenomeno dello spopolamento. Una tendenza però che l'impresa sociale Wander Grottole sta cercando di invertire, attraverso un progetto di rigenerazione urbana, che punta non soltanto al riutilizzo e alla rigenerazione delle abitazioni, soprattutto del centro storico, che ormai non vengono più utilizzate, ma creando anche una serie di connessioni tra la comunità locale e nuove energie provenienti dall'estero. Un progetto che nel tempo ha trasformato Grottole in una città-laboratorio, dove è possibile sperimentare progetti pilota che puntano alla rigenerazione del patrimonio immateriale e immateriale. E dall'altra hanno favorito anche la creazione di un nuovo modello di turismo, con il turista che non è più soltanto un visitatore, ma che diventa parte integrante della comunità. Quindi un abitante temporaneo che, attraverso scambi di idee, ma anche visioni future, dà un contributo alla comunità. Non dimentichiamo inoltre anche una serie di misure messe in atto dall'amministrazione comunale, anche per favorire l'occupazione giovanile. Dal punto di vista turistico, Grottole possiede un ricco patrimonio storico-artistico, composto soprattutto di chiese e di monumenti. Ricordiamo la chiesa di Ruta del XV secolo, o il monastero dei Frati Capuccini, e come possiamo vedere, anche il castello. E non dimentichiamo poi il ricco patrimonio naturalistico e paesaggistico, con i sentieri che portano verso il Bosco Coste e il Lago di San Giuliano. Dunque, Grottole è una terra dalle grandi potenzialità, ma vorrei lasciarti con un interrogativo. È una terra delle opportunità, in cui è possibile costruirsi un futuro, o è una terra dove le criticità prevalgono, e quindi è necessario lasciarla? Con questo ti restituisco la linea. A dopo. Grazie a te Carmela, e appunto, criticità o opportunità? Iniziamo a scandagliare le criticità, e lo facciamo partendo da Salandra con il contributo che poi commenteremo insieme al primo cittadino. Quasi non si creano i collegamenti necessari a questi paesi, è un elemento in più per far svuotare i paesi, perché nel momento in cui, a livello di infrastruttura, noi abbiamo una rete viaria buona, questo consente anche alla gente di poter viaggiare. Io, ad esempio, sono 30 anni che viaggio, lavoro a potenza, però ho scelto di stare qua a Salandra e posso permettermi di viaggiare tranquillamente, potrei viaggiare anche per Madeira, perché chiaramente le strade lo consentono. Però altri ragazzi che si spostano in Val d'Agri, e ce ne sono parecchi, noi abbiamo una quarantina, 40-50 giorni che stanno in Val d'Agri, hanno problemi appunto a raggiungere quei posti di lavoro, per cui dopo qualche tempo loro se ne vanno, vanno via, vanno sistematicamente, si trasferiscono in Val d'Agri. E così anche tanti altri, meno, diciamo che hanno meno volontà, oppure sono la classe nuova, insomma, meno propensa, come la vecchia, a viaggiare, pure su Madeira si spostano anche su Madeira, si spostano interi nuclei familiari. Quindi il primo problema per quanto riguarda le infrastrutture è proprio quello, è il discorso della viabilità, di queste maledette strade che in Basilicata, purtroppo, dato il territorio così vasto, mancano ancora. Quest'anno abbiamo creato anche un sito, sito web, dove abbiamo cercato di mettere tutta una serie di informazioni che riguardano la cultura, la storia di Salandra, le tradizioni, gli eventi, le feste, anche l'arte culinaria, cioè le attività di ristorazione presenti, perché chi viene a visitare Salandra diciamo può avere già un minimo di informazione, quindi abbiamo dato uno strumento, un riferimento che il visitatore, il turista, possa utilizzare per approfondire, cioè viene già con alcune informazioni di base. I comuni credo che in questa fase potrebbero fare qualcosa, perché pare che ci siano parecchi soldini a disposizione e su questo poi sono le politiche regionali che determinano un po' le strategie e credo che la strategia che vada messo in capo, perché la cosa del PNRR non è qualcosa che è finita oggi, insomma, è qualcosa che andrà avanti nel tempo, e credo che una della strategia regionale, una delle strategie regionali principali dovrebbe essere appunto quella di mettere in rete tutti quanti i comuni e le risorse ci sono. D'altro, anche qui, Salandra ne è testimoniali, perché hanno avuto già due finanziamenti, non so se legati esattamente al PNRR, però sono stati due finanziamenti abbastanza importanti, di un milione di euro l'uno e uno è stato utilizzato appunto per collegare meglio Salandra alla base in Tano. Quindi se la regione favorisce questo tipo di discorso e il comune ha con una buona capacità progettuale, programmatica, insomma, riesce a mettere dei progetti validi, non vedo perché non debbano essere finanziati, anche perché, diciamo, a questo punto sono indispensabili per la vita stessa del paese. Ebbene, allora, tra le criticità sicuramente il tema delle infrastrutture legate a Salandra, ma appunto il centro salandrese ha anche una bella vocazione culturale, come ci raccontavano gli intervistati. Sindaco, si ritrova in queste dichiarazioni, si ritrova nella necessità di serrare un dialogo con la regione anche in funzione di quello che delle opportunità del PNRR? Certamente, il dialogo va sempre animato con gli enti sub-comunali, quindi regione, provincia, però, oltre alla viabilità, c'è un tema fondamentale per le nostre comunità, per mantenerle in vita, e sono i servizi, i servizi che devono essere dati alla collettività. Perché il trasferirsi, io lavoro a Matera da 38 anni e per l'attaccamento al mio paese viaggio tutti i giorni, però capisco delle situazioni che si trasferiscono nel momento in cui non si capisce che nelle piccole realtà anche la tassazione deve essere rapportata al servizio che viene erogato. Pagare le stesse tasse su Salandra e Matera e lavorare a Matera è difficile trattenere le persone nei nostri territori. Anche il discorso di viabilità certamente l'infrastruttura ha un valore aggiunto per noi per i territori quindi un investimento da parte della regione e della provincia nel miglioramento nell'adeguamento della viabilità va benissimo sicuramente ci dà un respiro ma detassare alcune situazioni e quindi anche il monoreddito vivrebbe in condizioni migliori perché il costo della vita è inferiore il costo delle abitazioni sicuramente è abbordabile e se mettiamo in campo tutte queste azioni con gli enti regionali anche a livello governativo se paghiamo l'Imu come seconda casa ci sono delle case di emigrati che oltre aver pagato lo scotto di essere andati via pur volendo mantenere l'abitazione lì di famiglia a un certo punto preferiscono scendere una settimana in albergo perché gli costa come seconda casa come se fosse la seconda casa a mare invece a Salandra quindi la normativa è di carattere nazionale ma non calza con quelle che sono le esigenze di un territorio ecco perché noi vorremmo un confronto anche serrato con chi è sopra di noi chi ha la possibilità di organizzare tutto il sistema dove noi potremmo dare anche delle idee anche un input in modo tale che in quella situazione noi abbiamo per dirne una riattivato il centro storico non ho voluto realizzare case popolari nuove ho chiesto di riprendere le case nel centro storico la regione basilicata qualche anno fa mi ha dato un finanziamento per far ripartire questa realtà allora il centro storico vivo si mantiene e se queste idee nostre le vengono fatte proprie dagli enti sopracomunali sicuramente qualche ossigeno in più un po' di ossigeno in più e un po' di opportunità per le nostre realtà ci potrebbe essere interessanti proposte che arrivano ovviamente da chi vive queste realtà ne conosce bene le necessità parleremo dello stesso tema per Grottole ma nel frattempo andiamo a Salandra dove c'è nuovamente Pasquale Santiglio grazie Sergio riprendiamo la linea da Salandra siamo sempre all'interno del salone da barba gestito da Mario Pace e i caschi alle nostre spalle insomma non servono almeno in questa occasione per per farci una acconciatura particolare soprattutto in vista delle prossime festività pasquali con Mario Pace parleremo invece di quello di ciò che come dire si mormora in paese abbiamo detto che un po' dappertutto ma soprattutto nelle nostre realtà il barbiere è quasi il confessore quindi signor Pace cosa le confidano i suoi paesani vabbè è un po' di un po' di tutto diciamo a volte si parla di politica a volte si parla di salute a volte delle difficoltà economiche e quindi abbiamo e sono dei discorsi vari diciamo si fa dei discorsi un po' su tutte le prospettive per il futuro per il presente del del paese e quindi abbiamo queste diciamo ogni cliente ti parla io sono come una spugna che un po' tutti quanti si parla si fa parole una volta che uno ti parla delle situazioni sue un po' economiche un po' diciamo sono discorsi un po' vari soprattutto certo ma in particolare c'è una lamentela comune che viene confidata che posso dire confidata sempre a livello livello personale diciamo a volte economico soprattutto pur perché chi non arriva a fine mese chi non diciamo questi sono i problemi più diciamo su Salandra ecco che sono problemi comuni che abbiamo riscontrato anche in altri paesi della provincia di Matera in particolare il tessuto imprenditoriale di Salandra che cosa offre? beh negli ultimi anni diciamo c'è stata una piccola diciamo a livello di aziende un po' di perdita di lavoro però come paese nonostante tutto che diciamo io sono dall'88 che ho aperto il negozio quindi sono quasi 36 anni Salandra era già un bel paese di 3.008 abitanti e adesso siamo 2.005 quindi le difficoltà i giovani vanno via diciamo non c'è più quella cosa di trovare un posto di lavoro sono pareti ragazzi che vanno all'università quindi certo Sergio il signor Mario prima mi confidava di essere membro di un'associazione culturale ecco diciamo una delle risorse che potrebbe essere valorizzata a Salandra potrebbe essere appunto l'attrattiva storico culturale anche se certamente non è il patrimonio di questo paese paragonabile ad altre realtà che abbiamo visitato però qualcosa si sta muovendo sì diciamo noi abbiamo ripreso le attività che dal 2011 2012 con il forum delle associazioni le attività che in Salandra non si svolgevano più come per dire il carnevale il 19 di marzo i fuochi il primo maggio i giochi e più a livello culturale come presentazione di libri con compagnia teatrali insomma abbiamo fatto diciamo nel mese di agosto con eventi con eventi culturali in più con sacre con con che più diciamo a livello tutto quello che è il folklore a Natale a Natale si è ripreso e ha fatto una capanna in piazza con presepe viventi insomma e a livello anche sempre di sacre cerchiamo di darci da fare ecco come vede il futuro di Salandra? il futuro c'è lo spopolamento sperando che si fermi che i giovani rimangono a Salandra e c'è una speranza si crea uno posto di lavoro soprattutto perché uno avendo un posto di lavoro in zona quindi si dovrebbe rimanere non è costretto ad emigrare quindi abbiamo come abbiamo tanti ragazzi anche i nostri figli ognuno in famiglia ha dei figli che sono tutti emigrati questo è grazie signor Mario per il momento da Salandra è tutto Sergio ti restituisco la linea grazie Pasquale ti avvicini sempre più pericolosamente a quel casco spero non accada nulla di eclatante da questo punto di vista in ogni caso il tema dell'associazionismo è altrettanto importante in questi paesi è fondamentale e più tardi lo approfondiremo in modo specifico però ci spostiamo a Grottole per parlare anche in questo caso di criticità e opportunità le grottolesi sono molto accoglienti sono molto accoglienti ospitali e la criticità è che spesso ci si limita a giudicare senza invece rendersi conto che per ognuno di noi c'è la possibilità di fare fare concretamente quindi poi di rendersi utili davvero e condividere condividere le varie esperienze che portano sicuramente ad un miglioramento della nostra comunità io spero che le mie figlie rimangano a Grottole almeno a viverci anche se lavorando nelle vicinanze oppure spero tanto che loro riescano a capire che ci sono dei lavori che si possono fare anche qua e ci vorrebbe solo un po' più di iniziativa iniziativa perché non sempre dobbiamo guardare che sono gli altri che vengono a portare qui a Grottole le loro esperienze anche noi grottolesi potremmo farlo e i giovani dovrebbero capire questo ci sono delle attività che loro possono fare tranquillamente qua quindi spero che anche le mie figlie un giorno riescano a farlo io vivo io vivo bene l'unica la criticità di questo paese è la mancanza di lavoro quindi ti devi ingegnare per poter sovvivere in modo dignitoso se ci fosse un un po' di lavoro tipo qualche fabbrica nella Valbasento starebbe meglio ci sarebbe ripopolamento qui era proprio la patria dell'argila lavorazione quindi c'era proprio in una zona di Grottole viene chiamata le fornaci perché c'erano molti molti maestri fornaciari che producevano vasi il cucumo che serviva ai contadini per portarsi l'acqua fresca quando andavano in campagna io il futuro di Grottole come il futuro dei piccoli paesi lo vedo in crescita perché la gente ormai cerca di anche disintossicarsi dai grossi centri urbani e vedo anche tanta richiesta da parte degli stranieri a venire a vivere quel sogno diciamo italiano come noi abbiamo un po' il sogno americano la Californication che un noto gruppo diciamo cantava tanti stranieri richiedono di venire sul nostro territorio e devo dire che sono già tante le famiglie straniere che hanno scelto di acquistare casa e vivere qui nel nostro borgo sostanzialmente l'arrivo di persone straniere sul territorio può essere un'opportunità di crescita per soprattutto i giovani della nostra comunità dal punto di vista lavorativo perché possono diciamo sia seguirli per quanto riguarda appunto a livello turistico ma anche un aspetto che molte volte non viene preso in considerazione sono un po' tutti i servizi alla persona soprattutto l'assistenza burocratica a queste persone che arrivano da fuori perché la problematica principale per un cittadino straniero che sceglie di venire a vivere qui e di acquistare casa qui e poi districarsi all'interno della famosa burocrazia italiana e quindi per esempio questa per i giovani potrebbe essere un'ulteriore opportunità di lavoro da affiancare poi a quella classica turistica o commerciale bisogna stimolare i giovani all'autoimprenditorialità invece da parte degli stranieri sono state tante le richieste che molte volte sono pervenute anche al sottoscritto di essere aiutati da questo punto di vista quindi dalla ricerca della casa a tutte le pratiche alla ricerca di un terreno alla ricerca di un hobby da svolgere qui sul territorio ad oggi sono circa una decina di famiglie straniere che vivono qui sono tutte famiglie senza figli di una certa età che però quindi hanno molto tempo libero e molta possibilità di vivere la comunità è un tema che per fortuna ricorre spesso quello degli stranieri che scelgono di vivere di andare a vivere in paesi della provincia di Matera come in questo caso Grottole dove per alcuni sindaco De Vito manca il lavoro però al contempo c'è chi dice il lavoro bisogna anche saperselo creare quindi rimboccarsi le mani che è la famosa autoimprenditorialità è vero quello che è stato è stato detto abbiamo questa difficoltà quella del lavoro i nostri giovani purtroppo anche perché è cambiato il modo di lavorare molta gente abbiamo detto prima vanno all'università quindi è un lavoro nuovo un lavoro dove nei paesi purtroppo non esiste non c'è più questo tipo di lavoro allora dove andare a Matera perché noi siamo vicini a Matera quindi è una città che siamo a 30 km quindi è facile raggiungere e di fatti molta gente si riversa viene a Grottole lavora a Matera lavora viene qui a Matera ed è veramente è stato importante vedere anche l'opposto cioè alcune famiglie di Matera sono venute ad abitare a Grottole si sono comprate la casa a Grottole abitano a Grottole perché effettivamente siccome la distanza è molto breve anche i costi forse di un'abitazione in Matera non lo sappiamo è un ormai diciamo l'acquisto di una casa è diventato veramente esorbitante allora molti preferiscono arrivare e comprarsi anche una casa a Grottole dove si trovano a prezzi diciamo più bassi quindi questo fatto è importante bisogna inventarsi come diceva il mio vice sindaco un nuovo lavoro e i giovani abbiamo visto che ci tengono venire a Grottole ad abitare e noi qual è il compito nostro dell'amministrazione io ho detto noi dobbiamo cambiare modo di fare politica cioè creare i servizi importanti per i giovani far sì che i nostri giovani stando a Grottole trovano quei servizi essenziali che non devono andare a Potenza o a Matera per poter utilizzare quei servizi ad esempio è importante che noi in questo momento abbiamo realizzato un campo sportivo che a breve sarà inaugurato di erba sintetica stiamo pensando alla realizzazione di una piscina in una località turistica Bosco Costa non so se avete sentito parlare dove c'è una struttura ricettiva e l'estate lì è piena è pienissimo addirittura bisogna prenotarsi un posto un mese prima per trovare per avere la possibilità di stare in mezzo al bosco in mezzo in un gazebo quindi stiamo predisponendo facendo una gara di appalto per la realizzazione di una piscina proprio per dare questi servizi ai nostri giovani invece di andare in piscina o al mare lontano per arrivare devono averlo sul posto gratis io voglio che i nostri servizi devono essere dati ai cittadini gratis in modo tale che devono poter essere utilizzati e far sì che le famiglie invece di andarsene devono restare nei nostri borghi bella belle idee bel dinamismo e come dire un bel percorso torniamo a Grottole da Carmela Cosentino sì Sergio sono qui in compagnia di Rocco Filomeno che è un produttore di miele da dieci anni ma come nasce questa attività e che tipo di produzioni fai in realtà nasci da una passione come penso tutti gli apicoltori al giorno d'oggi iniziano con una piccolissima quantità di apice poche famiglie e poi magari diventano apicoltori di un certo livello professionisti diciamo così la mia è stata sempre una passione sin da piccolo mi ha aiutato mia moglie in questa mia passione mi ha spalleggiato diciamo per così dire sono un apicoltore nomade mi sposto con le api dalla mare alla montagna anche fuori regione se è possibile se magari ci sono le condizioni o meglio se non ci sono qui le condizioni facciamo molti tipi di miele facciamo miele millefiori molti lotti di millefiori perché ogni millefiori è diverso non sono tutti uguali facciamo miele di coriandolo castagno sulla trifoglio alessandrino agrumi un po' di tutto e molti dei miei rari che in Basilicata grazie alla nostra regione perché abbiamo qui una biodiversità incredibile facciamo anche dei miei rari tipo non so tipo il cardo il rovo e altri mieli e tu per produrre il miele ti sposi hai detto che sei un apicoltore nomade in particolare in quale aree? sì in tutta la Basilicata diciamo sia nella dal metà pontino diciamo così per indenderci alla collina materana alla Potentino al Vulto di Merfese e lì due anni fa abbiamo preso l'Oscar dei Mieli con il miele di castagno le tre coccidori è un concorso che si fa a livello nazionale che lo ha cioè è un concorso a livello nazionale che tutti gli apicoltori italiani partecipano e lì si decide magari i miei migliori d'Italia e lì presi l'Oscar dei Mieli un po' di anni fa tu esporti il tuo miele sia in Italia che all'estero ma qual è il miele è più richiesto anche fuori allora dipende dai periodi dell'anno in estate vendo in monoflora tantissime tantissime monoflora tipo non so il miele di agrumi il coriandolo che magari al nord non lo producono più di tanto e noi siamo produttori di coriandolo il trifoglio alessandrino anziché un altro miele no poi magari verso dicembre magari quando sai si prende magari si usa di più il miele si consuma un po' di più mi chiedono tutti il miele di fiori sia al nord che da noi tu hai investito il tuo tempo le tue risorse la tua professionalità in questo territorio ma consiglieresti a un ragazzo di investire qui? sì secondo me si può fare è giusto che sia così anche perché nel mio caso specifico io non mi sono inventato nulla quindi ho sfruttato ciò che noi avevamo nel territorio ricco di biodiversità e lavorando con le api sono riuscito a creare un'altra azienda e per questo ho deciso di restare qui e un motivo in più per restare qua perché c'è da fare tanto qui in Basilicata ci sono delle criticità adesso nel settore? sì tante criticità dai ritorni di freddo improvvisi al caldo torrido alla siccita e purtroppo negli ultimi anni anche un problema a livello commerciale perché sta arrivando miele dal sud-est asiatico dalla Cina sono mieli chiaramente non di eccelsa qualità come il nostro e molte volte anzi il più delle volte sono mieli fatti in laboratorio quindi non è miele del fatto dal nettare di fiori ma sono mieli contraffattissimi cioè mieli non buoni fatti in laboratorio quindi come dicevo prima bisogna sempre cercare di comprare locale e soprattutto comprare italiano perché è una garanzia sia per il consumatore e è una garanzia anche per noi per far sì che noi ci possiamo sostentare perché il patrimonio apistico italiano se no sta andando a rotoli diciamo così sta andando malissimo sta andando quindi da una parte Rocco Filomeno ha segnalato le opportunità che può offrire questa terra ricca di biodiversità e con un grande patrimonio anche paesaggistico dall'altra parte però le criticità del settore e io con questo contributo ti restituisco la linea grazie Carmela facciamo nostro l'appello dell'apicoltore nomade a sostenere il Made in Italy e in questo caso il Made in Basilicata e intanto cambia argomento e infatti parliamo di economia con il contributo sul tema che è legato al comune di Salanda fare politica per noi giovani è una grande sfida farlo in centri della Basilicata lo è ancora di più ovviamente in centri che sono magari anche un po' lontani rispetto a quelli che sono le comunità più grandi come Matera e Potenza però è una sfida che può essere vincente se c'è la passione quella dovrebbe essere alla base oltre poi alla competenza la competenza è fondamentale però la passione per il proprio territorio fare un qualcosa per il proprio territorio facendo anche quasi in maniera egoistica qualcosa per sé è quello che spinge è quello un po' il motore che muove l'attività politica che poi non è attività politica ma è attività amministrativa è attività di facilitazione nei confronti dei cittadini cioè mettersi a disposizione del cittadino che è un qualcosa che avvicina io sono originaria di Salandra e abbiamo deciso di partire a Lussemburgo abbiamo aperto un ristorante ce l'abbiamo ancora al ristorante però ci crediamo ancora alla nostra bella Italia e siamo in ritorno per ritornare a Salandra stiamo aprendo anche qui un ristorante con tutto a piscina e via di seguito ci crediamo e la nostra terra ci crediamo in tutti i nostri genitori hanno fatto tanti sacrifici e abbiamo creduto di ritornare e di voler restare qua mio figlio ha due figli Luca e Noa e abbiamo fatto questo accoppiamento di LuNoa Salandra vanta una tradizione sportiva grazie anche alla presenza di un'impiantistica sportiva di tutto rispetto qua siamo nella casa di diverse società sportive che hanno un fine sociale prima che andare a competere con le diverse realtà sportive delle altre comunità questa è la casa del basket ma anche del calcio a 5 in particolare abbiamo una società di calcio a 5 maschile che milita nella C2 regionale e poi abbiamo il CMB che ha una storia alle spalle di serie A maschile e al momento milita nella serie B femminile ed è seguita dalle diverse comunità non solo da Salandra quindi l'impiantistica sportiva di Salandra rappresenta un riferimento non solo per chi pratica sport ma anche chi ha la necessità magari di perché è una necessità effettiva di aggregarsi queste tribune ospitano gente che viene da San Mauro viene da Ferrandina da Calciano quindi rappresenta una sorta di contenitore dove poter anche scambiare le diverse esperienze che non sono esclusivamente sportive è presente sul territorio la società il CMB ma è erede dell'Itasalandra da cui è nata una dei nostri fiori all'occhiello che è Angelica Di Biase che è portiere della nazionale italiana di calcio a 5 è stata eletta tra i primi 10 portieri al mondo è vincitrice della Champions League femminile col Falconara e al momento milita nel Montesilvano quindi anche una sorta di esempio per i bambini i ragazzi e soprattutto anche per le bambine che ci sono a Salandra infatti sono attive diverse scuole calcio diverse squadre per l'Under 19 quindi è un motore anche questo per la comunità di aggregazione e di condivisione soprattutto di buone pratiche e buone esperienze Forza Salandra sempre e anche in questo caso ci uniamo all'appello appunto Forza Salandra sempre e Sindaco è un tessuto dinamico un tessuto in espansione mi verrebbe da dire a livello economico sì per questo dico noi evitiamo la lamentela comune stimolando come amministrazione e come cittadini la nascita e la crescita di queste realtà Palazzetto dello Sport che viene utilizzato da lunedì alla domenica con 90 bambini di scuola calcio del comprensorio perché arrivano ragazzi di Grottole ragazzi di San Mauro a cui diamo piena disponibilità a titolo gratuito allora dare i servizi a titolo gratuito è importantissimo i servizi dicevo poco fa con il collega Sindaco sono sinonimo di perdita perché ma la politica e le amministrazioni devono dare questo non devono mai fare un discorso ragioneristico sui servizi altrimenti non ci può essere nemmeno la scuola ha la capacità di autoreggersi con quei numeri la scuola negli anni 60 raggiungeva l'istruzione raggiungeva il cittadino con le scuole rurali oggi facendo un discorso numerico e ragioneristico è il cittadino che deve raggiungere l'istruzione non va bene non va bene per le piccole comunità non bisogna pensare al risparmio sul servizio e sulle opportunità da dare a quei ragazzi a quei bimbi che nascono in queste realtà devono essere supportate da noi dalla comunità regionale e nazionale e continuo e sarò sempre lì a battere quando si fanno le norme fino a oggi io non ho trovato leggi sbagliate leggi che non calzano col territorio vanno condivise col territorio che possono dare quel quid di valore in più per migliorare la norma e migliorare il modo di vivere anche nei piccoli comuni noi stiamo bene nella nostra realtà ci sveniamo per dare queste opportunità e poco fa anche il consigliere spiegava un po' l'utilizzo del palazzetto lo diamo volentieri gioca il ferrandina ci chiedono anche altre società quando hanno difficoltà e solo il contributo alla persona che ha la gestione la pulizia non chiediamo nulla sotto l'aspetto economico l'importante che l'amministrazione fa distrarre per quello che può i ragazzi dall'ozio e noi ci mettiamo tutto l'anima il cuore per non farli deviare ma farli stancare nelle attività sportive ludiche e anche come diceva Mario il mondo dell'associazionismo quindi veramente sono fiero di avere dei collaboratori e anche una cittadinanza così attiva e presente partecipe e critica per alcuni versi purché la critica sia costruttiva è sempre ben accetta e allora andiamo nuovamente a Salandra per l'ultimo collegamento con Pasquale Santifio riprendiamo la linea da Salandra siamo in compagnia del dottor Andrea Daria che vi prima abbiamo presentato come consulente marketing online il dottor Daria ha una storia particolare da raccontarci che va in controtendenza con quello che è il fenomeno di cui abbiamo parlato spesso nei nostri collegamenti c'è lo spopolamento la storia del dottore è una testimonianza che volendo si può invertire questa tendenza buongiorno a tutti sì si può invertire ci sono determinate professionalità che possono essere di ritorno io ho lavorato e vissuto per più di vent'anni in Toscana a Firenze e da sette anni sono tornato a vivere qui a Salandra con la mia famiglia devo dire che il mio lavoro è fare diciamo consulenza per le iniziative online delle imprese delle associazioni del terzo settore ha trovato un terreno fertile qui a Salandra perché abbiamo noi abbiamo una bella infrastruttura con la fibra ottica che quindi ci permette di lavorare di essere al passo con anche le città dove notoriamente si fanno questo tipo di operazioni devo dire che anche è stata tra virgolette apprezzata dalle aziende locali perché diciamo avere un appoggio di un professionista che normalmente cercavano fuori se non addirittura fuori diciamo paese se non fuori regione addirittura quindi hanno trovato questa sponda per poter aumentare il loro servizio abbiamo fatto degli e-commerce abbiamo fatto delle consulenze per le vendite ad alcune aziende vendite per le aziende di servizi c'è un bel da fare credo che ci sia la possibilità soprattutto per questi nomadi digitali che vivono di poter diventare un attrattore per la qualità della vita che abbiamo nei nostri paesi brevemente dottore ci può tracciare l'identikit dell'azienda a cui lei offre la sua consulenza mediamente sono piccole aziende che iniziano a fare fatica per via dei numeri contenuti che ci sono all'interno della comunità e del circondario e che però hanno una buona possibilità di avere dei prezzi competitivi dato il basso costo diciamo anche degli spazi della vita qui e quindi è possibile per loro essere competitivi sul mercato ma devono esporsi digitalmente questo è l'identikit quali sono i punti deboli e eventuali punti di forza dell'economia di Salandra? Inizierei dai punti di forza abbiamo come dicevo già una bella infrastruttura dal punto di vista della fibra ottica e quindi nel mio settore è molto importante averla e devo dire una cosa è molto piacevole lavorare in un contesto come questo mentre abbiamo ovviamente dei punti di debolezza che sono diciamo la necessità che le aziende un po' si aggreghino per sfruttare delle opportunità sia dal punto di vista dei bandi sia perché i costi per magari una piccola azienda sono un po' più proibitivi per pionierosi invece se facessero aggregazione potrebbero permettersi di fare advertising in maniera un po' più proficua ringraziamo ringraziamo il dottor Daria per questa importante e significativa testimonianza da Salandra è tutto Sergio ti saluto saluto i tuoi ospiti e ti restituisco la linea grazie a te Pasquale sempre come dire a caccia di nuove tendenze come in questo caso i nomadi digitali che attecchiscono e si sviluppano in quel di Salandra noi ci spostiamo a Grottore per affrontare lo stesso tema quello dell'economia poi commenteremo con il sindaco ma anche con un ospite in remoto guardiamo il contributo allora ci troviamo nella chiesa di Ruta e in Compiuta è una delle chiese a mio parere è la più bella di Grotta ma anche della Basilicata per le sue caratteristiche costruttive ma anche per lo stato in cui si è trovata perché ricorda molto anche la cattedrale che sta in Toscana del Gaugano se non ricordo male che si chiama è un monumento di punta di questo paese dove molte persone e molti turisti vengono appositamente per vedere questa questa cattedrale questa qua doveva essere una cattedrale molti che passano dalla Basentana salgono appositamente per vedere la meraviglia ma soprattutto per vedere una particolare di questa chiesa che è la cupola ellittica dobbiamo solo pensare che Grottole è antica come Matera ha origini primitive quindi ha subito tutte le influenze storiche fino al giorno d'oggi ma questa chiesa poi ha una particolarità che ispira poeti ispira scrittori dove vengono qua per rilassarsi e per trovare l'ispirazione per poter scrivere o pensare a qualcosa sempre inerente la cultura le donne a Grottole sono molto attive devo dire e hanno una bella capacità organizzativa e anche imprenditoriale perché gestiscono in generale parlo di donne che sono imprenditrici gestiscono delle attività commerciali e poi sono devo dire una forza anche di grande sensibilità perché nel momento in cui vengono coinvolte sono le prime a voler fare qualcosa concretamente un esempio è proprio quello di cui parlavamo prima di questo progetto Infopoint che abbiamo realizzato sfruttando i fondi di coesione della regione i fondi di coesione che non si chiamano più così ma alla fine l'obiettivo è sempre quello ci ha permesso proprio di far lavorare delle donne che non erano disoccupate oppure ragazze giovani che avevano lasciato gli studi con l'associazione abbiamo creato un itinerario turistico dove raccontiamo di grottole raccontiamo dei monumenti raccontiamo dei fatterelli legati alla superstizione fantasmi a quelli che si raccontavano prima le fatture malocchi è molto particolare e poi abbiamo fatto una cosa molto molto importante far rientrare grotto in itinerario nazionale e ora che si sta espandendo a livello europeo con l'installazione della panchina gigante la big bench e l'idea visto che comunque porta tantissimi turisti l'abbiamo è stata molto faticosa però con la comunità che ci ha sostenuto nella raccolta fonti e abbiamo installato wonder grottole è un progetto di comunità utile a mettere in connessione la comunità locale con la comunità globale per far sì che i cittadini del territorio possano vedere la loro comunità sotto una nuova luce che è la luce appunto dei turisti delle persone di fuori che vengono a vivere il territorio e riescono a cogliere tutte quelle peculiarità quelli aspetti che magari agli occhi del local del cittadino residente molte volte sfuggono per abitudine per diciamo tante altre situazioni in questi anni wonder grottole che ormai opera sul territorio da dieci anni esattamente da dieci anni noi mettiamo in connessione attraverso le esperienze di comunità a contatto con il territorio attraverso seminari workshop i cittadini diciamo del mondo con i cittadini grottolesi grottole sarebbe il paese più grande della basilicata perché con il nostro progetto Italian Sabbatical lanciato appunto qualche anno fa 285.000 persone hanno fatto richiesta attraverso il nostro sito di venire a vivere a grottole di queste 285.000 persone ne abbiamo selezionate cinque che hanno vissuto la nostra comunità per circa tre mesi e appunto hanno creato connessioni con i cittadini sul territorio hanno lavorato con le associazioni commerciali hanno lavorato con l'amministrazione comunale hanno lavorato anche per arricchire a livello turistico il territorio penso una su tutte l'iniziativa dei Sabbatical di installare all'interno del centro storico di grottole la cartellonistica turistica quella classica marrone che prima non c'era dare spazio realmente alle donne perché noi non siamo semplicemente la solita quota femminile di cui si parla la solita quota rosa le donne hanno la capacità di arrivare a quella sensibilità che magari purtroppo gli uomini non riescono a comprendere subito e quindi tematiche che affrontano riguardano anche l'aspetto sociale l'aspetto dell'istruzione sono veramente delle categorie diciamo così molto delicate in cui le donne riescono molto bene perché la sensibilità che la donna ha non è soltanto quella di comprendere e quindi di essere dolce insomma e comprensiva ma anche quella poi di trovare nell'immediato la soluzione a proporre perché noi siamo molto sensibili ma anche molto concrete l'economia a Grottole una economia al femminile un'economia sindaco De Vito che vede al centro partecipe attiva la comunità Wonder Grottole è un progetto che ha proiettato il suo comune a livello mondiale è vero questo è vero bisogna dare atto a questa Wonder Grottole che ha saputo con il suo progetto proporre una grande diffusione del nostro territorio e abbiamo avuto dei risultati che ancora oggi sono segni visibili in quanto c'è una una partecipazione c'è un turismo continuo noi assistiamo a una serie di stranieri che vengono nel nostro paese a visitarlo e quindi questo ci fa piacere ed è importante solo che ed è importante è importante anche quello che diceva il mio vice sindaco Maria Bia cioè una una classe una possibilità per le donne creare diciamo dei servizi importanti nel nostro paese un esempio che noi abbiamo visto di recente è quello che molti giovani hanno aperto delle attività ed è questo ci fa ci fa piacere perché è un segnale importante quando si aprono si vanno ad aprire alcuni locali alcune strutture nel centro storico significa che c'è una partecipazione c'è uno sviluppo anche economico e imprenditoriale e noi qui dobbiamo stare attenti dobbiamo cercare in tutti i modi che si sviluppa quella economia diciamo che può portare uno sviluppo all'interno del nostro paese quindi non soltanto andare fuori a lavorare ma devono fermarsi bisogna creare degli strumenti dove possiamo creare delle attività nel nostro bordo grazie sindaco e io prenderei il caso Wonder Grottole per aprire un momento di riflessione su quello che può essere il coinvolgimento delle comunità e progettualità di questo tipo per aiutare i paesi della Basilicata in particolar modo della provincia di Matera a uscire dall'isolamento che spesso non è soltanto strutturale infrastrutturale ma anche sociale e superare in questo modo anche una piaga che attanaglia un po' tutti i centri che è quella dello spopolamento e a questo proposito voglio coinvolgere in collegamento da remoto a proposito di donne Mariella Stella per Casa Natural che è poi l'associazione dalla quale è nato Wonder Grottole che oggi è una realtà a sé ben trovata Mariella ben trovati mi fa molto piacere vederti anche a noi fa molto piacere vederti sappiamo che sei indaffarata per lavoro come dire al nord però siamo contenti che tu abbia accolto il nostro invito abbiamo visto come Wonder Grottole abbia di fatto dato un impulso importante a Grottole e alla sua comunità noi ragioniamo sui centri della provincia di Matera in generale oggi abbiamo anche Salandra ospite spieghiamo la genesi di questo progetto che è partito da Casa Natural che tu rappresenti e anche quanto questi progetti possano aiutare appunto come dicevo prima i centri a dare uno scatto in avanti allora io sono molto contenta di raccontare questa storia perché la storia della nascita di Wonder Grottole è la storia che sta poi segnando la nascita anche di nuovi spazi diciamo che in tutta la Basilicata ma non solo stanno piano piano gemmando Wonder Grottole è nata da una camminata perché come Casa Natural noi dal 2013 organizziamo delle camminate antropologiche che collegano a piedi i paesi della Basilicata quest'anno andremo nella zona di San Mauro Forte le Dolomiti Lucane ma abbiamo in questi anni in questi sarà l'undicesimo anno questo esplorato tutta la Basilicata noi invitiamo persone da tutto il mondo spesso sono innovatori sociali smart workers ma anche diciamo imprenditori o semplici professionisti che sono interessati ad esplorare i territori che si stanno spopolando e li invitiamo a camminare con noi per 4-5 giorni percorriamo circa 90 km ogni volta per ogni percorso la cosa meravigliosa è che questa esplorazione a piedi è come dicevo antropologica quindi noi incontriamo le comunità e incontrando le comunità lasciamo che le comunità si raccontino e ci accolgano proprio come sanno fare loro quindi mostrando quelli che sono un po' i gioielli di famiglia anche perché siamo molto fiduciosi nel fatto che la Basilica ten abbia tanti e sappia sempre come mostrarli questo è successo a Grottole noi siamo arrivati nel 2013 abbiamo incontrato Silvio che prima vedevo intervistato che è diventato uno dei condatori Silvio e Grottolese e Silvio e la sua compagna Michela che faceva la guida a Grottole ci condussero per le vie del paese e noi ci innamorammo di Grottole proprio dai loro occhi dai loro racconti e quindi iniziamo dal 2013 a organizzare con loro e con un gruppo di ragazzi che collaboravano con loro anche per l'organizzazione delle feste locali patronali ad organizzare una serie di attività diciamo nel paese organizziamo delle cacce al tesoro tematiche ispirate alle loro tradizioni e così via il progetto cominciò a crescere fino a quando decidemmo di proporre questo progetto ad Airbnb Airbnb sposò in pieno l'idea e decise di finanziare proprio questo desiderio che avevamo di proporre proprio con le persone del posto un progetto di ripopolamento del centro storico acquistando una casa che poi abbiamo acquistato nel centro storico completamente ristrutturata che diventasse un po' il punto come dire nevralgico in cui accogliere in un piccolo paese della Basilicata il mondo intero il resto l'ha raccontato Silvio ma ci tenevo a raccontare la genesi del progetto proprio perché questo è il metodo in cui crediamo fermamente che stiamo portando avanti adesso in varie parti anche d'Italia oggi sono a Gorizia perché sta nascendo proprio uno spazio qui una casa natural perché noi a Matera abbiamo lo spazio di casa natural da cui poi tutto è partito crediamo che sia fondamentale che i paesi vivano questa contaminazione internazionale per esempio Wonderglottole adesso vengono ospitate periodicamente residenze artistiche anche con l'Ecole Française con altre grandissime istituzioni internazionali e stiamo portando questo metodo anche in altri paesi della Basilicata cercando quindi di coniugare quella che è la tradizione dei paesi e quelle che sono le risorse dei paesi con l'incredibile innovazione che anche a partire come diceva il sindaco prima dalla possibilità di fare nuova imprese possono nascere quindi abbiamo capito che da questo cortocircuito tra l'esterno e l'interno nasce uno sviluppo che è anche economico bene quindi possiamo affermare in modo diciamo ottimistico che abbiamo un futuro nelle comunità e abbiamo un futuro in questi centri proprio basandoci su iniziative di questo tipo sì abbiamo io sono molto ottimista penso che diciamo però ci sia bisogno di una convergenza cioè è importante che il privato faccia il suo è importante che le istituzioni supportino il privato in questo e facciano sentire che scommettono altrettanto in questa possibilità di sviluppo quindi penso che sia fondamentale anche una sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni che stiamo incrociando sempre più spesso molto interessate a capire quali possono essere gli esiti anche di sviluppo economico reale del territorio e quindi ci piace molto per esempio aprire dei tavoli di confronto e di coprogettazione anche delle iniziative che poi a livello locale sviluppiamo in modo che diciamo l'obiettivo nostro è quello di dare poi al territorio lasciare un'eredità che diventi il suo sviluppo per cui soltanto col coinvolgimento delle persone del posto delle persone di fuori che possono portare il loro know-how e delle istituzioni è possibile creare una triangolazione perfetta che garantisce ai territori anche quelli molto piccoli la possibilità di svilupparsi e anche di riabitarsi non necessariamente con le persone che diciamo sono nate lì ma anche con persone che decidono di diventare abitanti di quei luoghi faccio una riflessione con i sindaci insomma ci sono delle belle prospettive che arrivano da iniziative così che appunto a Grottole hanno attecchito hanno sanno funzionare sindaco è un'opportunità sicuramente è un'opportunità io ho seguito da vicino quello di Grottole perché ripeto siamo di rimpettai e c'è un rapporto anche di scambi politici familiari e quindi abbiamo veramente condiviso e guardando con un pizzico anche di invidia positiva e anche da Salandra ci sono questi ragazzi che si sono prodigati nel mondo dell'associazionismo che stanno stimolando la venuta di persone soprattutto di emigrati di terza generazione che vogliono conoscere le origini dei loro nonni dei loro genitori che non venivano e non sono mai venuti a Salandra abbiamo da una piccola comunità anche degli Stati Uniti una comunità in Germania la signora da Lussemburgo è ritornata investire su Salandra credendoci tanto e con un'amministrazione a fianco per dare tutto il supporto possibile utilizzando dei fondi PNRR per la senteristica noi abbiamo un bosco di 700 ettari quindi vorremmo tanto stimolare quel settore lì ambientale di tranquillità di viaggiare in questi sentieri all'interno del bosco io credo che queste opportunità così come diceva il dottor Daria che è ritornato lavorando da casa e ci sono anche altre realtà che hanno deciso di non andare via ma di mettere a frutto la loro professionalità quando è possibile lavorare smart e quando anche noi sfruttando un progetto ministeriale dello SPRAR ospitalità dei ragazzi minori non accompagnati e nel momento in cui abbiamo fatto questo abbiamo pensato anche in maniera egoistica un po' al business nel senso che delle figure e delle ragazze laureate in sociologia in psicologia che difficilmente avrebbero trovato opportunità inserendoli in questo circuito di accoglienza hanno trovato lavoro e stanno dando ottimi risultati per un business con integrazione di questi ragazzi che vengono dall'Africa e vengono ospitati nelle nostre comunità e noi avevamo già un collegio che ospitava quindi la comunità è organizzata e l'ha presa a cuore e con amore ed è anche lì un elemento di sviluppo economico che va curato va diciamo supportato dall'amministrazione Sindaco la storia della genesi di Wonder Grotto è affascinante come ce l'ha raccontata Maria La Stella siete diventati un caso di studio è vero quello che è stato detto Grottole ormai è decollata è partita dal punto di vista turistico diciamo siamo stati conosciuti fuori all'estero ed è importante questo quindi cosa significa cosa ci va a insegnare questo a noi ma anche ai futuri amministratori ai futuri cioè quello che i nostri borghi sono così belli così ricchi di storia così ricchi di monumenti bisogna farli conoscere all'esterno se noi abbiamo questa capacità di farci conoscere fuori è importantissimo i nostri comuni decollano a me ultimamente guarda sono rimasto meravigliato un paio di mesi fa è venuto da Matilda sono venuto a Grottole una settantina di persone un'associazione non vi dico chi 70-80 persone a Grottole sono questi non conoscevano Grottole sono rimasti così entusiasti nel girare nel vedere che vogliono non hanno fatto in tempo in una giornata vogliono venire un altro giorno di nuovo a Grottole perché vogliono conoscere allora è importante questo se non riusciamo a far capire che i nostri come Grottole come tanti paesi non dico ma la Basilicata la provincia di Matera è ricca di questi pochi dobbiamo avere la capacità di farci conoscere fuori Mariella io Mariella Stella ti ringrazio per la partecipazione torna presto perché qui c'è tanto da fare come si dice in questi casi grazie grazie e buon lavoro grazie saluti a tutti grazie ancora e allora ci colleghiamo stavolta con Grottole dove c'è in collegamento Carmela Cosentino per l'ultima volta in questa puntata chiesa di Ruta chiesa di Ruta tu la mia attenzione fin dalla nascita hai attirato anche se non da tutti sei stata apprezzata io dal mio terrazzino ti ho sempre guardata e ammirata e a tal proposito un piccolo aneddoto voglio ricordare quando scherzando con le amiche dicevo che quel santo che insieme a quel pezzo di murro è cascato era il mio fidanzato e perciò un po' in crisi quel giorno sono andata ma l'altro giorno che per la prima volta dentro sono entrata una fitta al cuore ho provato per quello spettacolo accattivante unico rare emozionante che con la sua bellezza mozzafiato pareva che il cielo con un dito avrei toccato e questo quindi mi ha dato un potere in più e cioè quello di farmi vedere il mondo dai tetti in su ringrazio la poetessa Vincenza Caldone che ha scritto una bellissima poesia sulla chiesa di Ruta ed è il modo per poter parlare anche di cultura e dell'offerta turistica che c'è qui a Grottole ecco in compagnia di Mare Rosaria dell'associazione Made in Grottole sì noi l'associazione Made in Grottole propone un intirenario turistico patrocinato dal comune di Grottole dove portiamo i turisti e chi vuole visitare il nostro paesino in giro per le strade a visitare i monumenti come la chiesa di Ruta la chiesa di San Rocco e il castello e oltre a questo abbiamo anche installato una big bench al Bosco Coste ci sono tanti turisti stranieri che vengono a visitare Grottole sì sì sono proprio in tanti vengono da ogni parte del mondo e dell'Italia naturalmente è anche un impulso anche all'economia di questo territorio in particolare sono qui con Giovanni Finamore che è un giovane che ha deciso di investire in questa terra prendersi un'attività quando nasce questa attività e quanti ragazzi siete che la gestite nasce il 17 luglio del scorso anno la gestisco solo io come ragazzo ho deciso di aprire questa attività per regalare qualcosa ai ragazzi qualcosa di diverso da fare per magari svagarsi e fare altro di un punto di ritrovo quindi anche insomma che tipo di attività è un bar un locale è un bar in cui all'interno ho alcuni giochi come per esempio carambole biliardini dove possono svagarsi ragazzi quindi un posto che tu offri anche la sera per loro quindi secondo te Grottole può essere la terra delle opportunità per i giovani sì io sono del parere che l'opportunità bisogna crearsele ti ringrazio Giovanni io faccio chiudere con la poesia della signora Vincenza e adesso vi dico un'altra poesia dedicata ai giovani e ai bambini cari giovani e bambini una storia vi voglio raccontare e sotto forma di poesia la voglio narrare c'è un paese dove si dicono tante frottole questo posto si chiama Grottole questo è un piccolo paesello diciamo pure bello però c'è un piccolo vizietto di affibbiare i soprannomi a ogni persona e quindi fu per questo che fin da quando ero piccina mi chiamavano Negrina io piangevo mi disperavo all'asilo non volevo più andare ma poi un giorno pensa che ti ripensa ho fatto di quello che sembrava un difetto una specie di barzelletta quando qualcuno mi presentava io dicevo piacere cenzina la Negrina e tutta la tensione accumulata si trasformava in sonore risate dunque miei cari giovani un consiglio vi voglio dare se qualche cosa vi sembra che vada male non vi dovete scoraggiare ma anzi qualcosa vi dovete inventare perché la vita è bella e va vissuta allegramente alla faccia della gente bene Sergio con questi contributi io ti restituisco la linea grazie Carmela chiudiamo in saggezza da grottole e ovviamente ci ritroveremo nelle prossime puntate il tema che tiene Banco in chiusura qui a Rete31 è proprio quello del fare rete che come abbiamo anche detto in apertura diventa un po' un obiettivo quello di mettere insieme anche realtà molto simili e molto vicine in questo caso come Salandra e Grottone per affrontare le sfide quotidiane del territorio in modo in modo congiunto parto dal dal sindaco di Salandra Giuseppe Soranno quanto è radicato questo quanto è radicata questa abitudine di fare rete quanto è importante che diventi sempre più diffusa allora è radicata da sempre nei piccoli comuni se guardiamo le distanze quando si andava a cavallo erano e si utilizzavano le strade rurali Salandra Grotto le siamo a 11 km Salandra San Mauro siamo a 11 km Salandra Ferrandina sulle strade rurali siamo a 11 km quindi già nel passato c'era una rete di collegamento tale da mantenere in piedi le realtà con una compartecipazione dicevo poc'anzi tra Salandra San Mauro Grottole c'è uno scambio anche economico per le attività un'attività Salandra non riesce a reggersi solo per Salandra bensì con l'apporto dei paesi limitrofi trovano come dire beneficio per quella peculiarità su Salandra ma si può trovare su Grottole per un'altra cosa e si è molto attenti sul territorio a non creare diciamo un dualismo tale da uccidere entrambi mantenere gli equilibri se abbiamo una realtà su Grottole evitiamo di fare la fotocopia nell'altro comune ma cerchiamo di mantenere viva in piedi quella realtà faccio riferimento per esempio noi abbiamo la banca a Salandra ha chiuso quella a San Mauro Garaguso non c'è utilizzano il Bancomat la rete anche adesso tanto si può lavorare anche tramite il telefono però la banca solo per Salandra non riesce a reggersi ma con le comunità limitrofe che possono essere raggiunte in brevissimo tempo anche per andare a prendere un caffè o a tagliarsi i capelli dal parrucchiere o dalla parrucchiera che è su questi territori permette di mantenere vive alcune realtà economiche in simbiosi con l'intera area circostante del territorio del comprensorio e questo veramente ci rende più umani perché c'è uno scambio giornaliero anche di idee di dialetto di sfottò su alcuni termini dialettali che diventa simpatico aspettare l'amico che viene dal paese lì vicino così per condividere anche un aperitivo o una serata insieme e a livello amministrativo è una una prospettiva quella di poter immaginare una gestione di questi centri che sia noi abbiamo sperimentato già nel passato una gestione soprattutto degli uffici cercando di mettere in in rete magari un comune che all'ingegnere viene messo poi a disposizione per alcune ore per gli altri territori altri comuni adesso c'è una difficoltà perché ripeto quando parliamo dei fondi PNRR la fase di rendicontazione non ci permette di avere queste opportunità perché sono molto restrittive nel lavoro e ci vuole una persona dedicata mentre prima si riusciva a stare più in rete quindi ecco perché io chiedo che il coinvolgimento così noi daremmo dei suggerimenti per vivere in simbiosi poi un po' di campanilismo c'è quindi immaginare che ci possa essere un'area comune dove un sindaco e gli altri non la vedo così semplice però la condivisione su alcuni programmi di larga scala e anche come uffici è possibile e noi ce l'abbiamo messo in campo vorremmo una mano da chi ci governa per migliorare e continuare è inutile avere un vigile per ogni comune ma avere magari una polizia comunale condivisa per avere più opportunità e più competenza per dirne una ma così per quanto riguarda anche tutti gli altri settori tanto adesso lavorare smart è velocissimo il commissario per un lavoro commissario regionale non viene a Salandra lavoriamo tranquillamente da potenza a Salandra senza viaggiare senza niente ecco perché dico che è importante il dialogo tra sindaci tra amministratori per far vivere meglio le nostre comunità offrendo dei servizi migliori sindaco De Vito il vostro stesso tema quindi quello che diceva il mio collega è giusto e io ritengo che fare rete significa anche mettersi insieme politicamente quello che voglio riprendere un po' questo discorso perché il futuro io dico deve essere questo cioè non si può avere un sindaco di 2.000 abitanti di 1.500 abitanti in ogni comune ma ci deve essere un sindaco che deve rappresentare 7-8 comuni già 20 anni fa ci fu una legge dove stabilì che bisognava fare mettersi insieme i comuni perché perché i costi incominciavano ad essere esorbitanti allora se volevamo risolvere questo problema lo Stato allora fece una legge sui comuni di mettersi insieme e fu stabilito allora se ricordo bene che dovevano mettersi insieme comuni di 10.000 abitanti proprio perché i nostri territori sono distanti non sono vicini come al nord dove un comune tu non te lo accorgi neanche quando attraversa un altro comune ma proprio per la nostra diciamo distanza diciamo come è configurato il nostro territorio orografia bisogna bisogna fare questo insieme e sono convinto che fra non molto non dico quando si arriverà a questo fatto perché l'unico modo è inutile avere un sindaco a grotto un sindaco a salanti come è inutile avere un responsabile di aria contabile a grotto a salanti a grassanti perché un ragioniere che deve fare 50 mandati con i mezzi che sono oggi i compiuti li può fare a grotto a salanti cioè li può fare a tutti i comuni quindi non c'è bisogno che deve avere ogni comune un responsabile di aria contabile ci può fare e allora io sono convinto proprio per la riduzione delle spese c'è bisogno che alla fine si deve fare si deve applicare questa legge che è l'unione dei comuni grazie grazie ai sindaci torno a salutarvi tra pochissimo perché come sempre chi ci guarda abitualmente sa in chiusura diamo spazio all'eccellenza o meglio alle eccellenze enogastronomiche del territorio in questo caso di Salandra e di Grottole per questo raggiungo l'angolo dello chef c'è una bella collaborazione con l'associazione provinciale dei cuochi materani che quest'oggi ci ha portato in studio lo chef Nicola Ierino ben trovato ben trovato anche a voi è un piacere poter chiudere con voi sempre queste nostre trasmissioni perché ci portate delle chicche ovviamente legate sempre ai comuni che ospitiamo in questo caso dicevo Salandra e Grottole da dove vogliamo cominciare? Da Grottole allora Grottole è un antico piatto della civiltà condadina un piatto povero ma a livello economico ma ricco di gusto fave cicorie mitico fave cicorie mitico fave cicorie acquisito però anticamente dalla vicina regione Puglia questo c'è da dire però è battezzato anche in Basilicata Matera Grottole anche nei paesi limitrofi dove prima anticamente le nostre nonne raccoglievano le fave le facevano essiccare e poi le consumavano tutto l'anno anche nel periodo invernale io ricordo mia nonna che consumava le fave vicino cioè cuoceva e consumava le fave vicino al fuoco nella pignata le fave arrappate oppure le fave come la versione che ho portato io che sono delle fave decorticate fatte con un mini pinner e poi aggiunte le cicorie campestri io ci ho voluto mettere un di più il peperone crusco di senise e il baccalà pastellato per dare dei colori al piatto e questo è un piatto che rappresenta molto bene la cittadina di Grottole qui sotto invece cosa c'è? sotto la cloche sotto la cloche la famosa cloche pure non è una campana ma è una cloche ci sono dei maccheroni al ferro ferretto con un ragù di di maiale precisamente con la salsiccia di pezzente la salsiccia di pezzente anticamente sono le parti meno nobili del maiale con una decorazione sempre di peperone crusco e un finocchietto selvatico con sopra del buon pecorino del posto e questo rappresenta Salandra e anche i paesi limitrofi non solo Salandra San Mauro Accettura Garaguso però ogni paese può dare il suo tocco personalizza al proprio modo diciamo e allora allo chef Nicola Ierinò il ringraziamento di Rete 31 per la presenza così come all'associazione provinciale dei pochi materani che ogni settimana ci tiene compagnia io vado a salutare i sindaci prima di di chiudere perché come sempre è un piacere poter interloquire con loro per la durata della trasmissione e quindi ringrazio il sindaco Sonanno di Salandra grazie per la partecipazione grazie a voi e a tutti e ringrazio il sindaco De Vito di Grottole e buon lavoro entrambi grazie e allora buon lavoro a loro e buon proseguimento a voi che ci seguite ci ritroveremo ovviamente nella prossima puntata con altri due comuni della provincia di Matera da scoprire da conoscere da approfondire c'è ancora qualche tappa del viaggio da fare insieme grazie a tutti Grazie a tutti.